pensa aver organizzato format insieme solo per subdolamente introdurmi lentamente nella tua vita funzionato però sarebbe inquietante l'anni sarebbe veramente inquietante quando è che molliamo le live in inglese e la finiamo di fare la finta zeb versione femminile quando tu finalmente ti troverai in amorosa mi sa che qui si parla inglese finché non si diventa un po' allora è tutto nelle tue mani in che senso ha invitato a milano più e più volte se tu che rifiuti fai tanto il grasso nelle tue mani allora senti non sono grasso il che vieni giulia io vengo tante volte al giorno come diceva fanetti su di te su di te chiedile quando è libera giulia quando è che vorresti fare sesso che giorno preferire sesso non penso quando è che vorresti fare un po di petting petting in che senso petting sì però sui genitali col pettine ho posto male la domanda quando è che vorresti fare all'amore è vero che tu sei toscano e sei passionale e all'amore non lo so sei tu che devi dirmi quando c'è vieni tu qua non vengo mica io lì giusto scusa però giulia logisticamente magari sei sei lì nell'atto e arriva giumbodrilla a usare le ciabatte in camera non è la situazione che preferisco e poi ma però te ci sono due gatti da me c'è una bestia sì però perlomeno i gatti sono carini c'è li puoi anche chiudere fuori dalla porta scusa logisticamente vai a casa di una persona che a casa completamente libera oppure vai a casa di una persona che ha un coinquilino scusami che rispetto hai per la gente che vive con te non fare lo stronzo vieni a milano non fare la stronza vieni a milano no no tu non te ne vai mai via di lì mai mai sempre dentro quel blu che stai sempre vieni gioca calcetto dovresti dimostrare guarda le skinny jeans